Per presentare le novità nate dal connubio del know-how di L'Oreal con le nuove tecnologie, l'azienda ha promosso il Beauty Tech Day, organizzato da Startup Italia. Susana Rodriguez Scudero, Chief Marketing and Digital Officer di L'Oreal Italia, ha esposto le peculiarità del marketing nell'era digitale. Il marketing nell'era digitale è di creare una connessione con il consumatore, il digitale ci permette di conoscere il consumatore meglio, capire che cosa vuole, che cosa ha bisogno. L'era digitale ci ha anche permesso di creare delle comunità, ovviamente le comunità sono molto care a noi perché danno tantissima credibilità. Tramite la tecnologia, e oggi lo vediamo, ci sono delle diagnosi che permettono di capire che tipo di pelle ha o che tipo di capelli ha e dunque quali sono i prodotti adatti per i consumatori che possiamo offrire. Caroline Renard, Head of Innovation and Program Office for Tech Accelerators di L'Oreal, ha presentato i pilastri di Beauty Tech. Beauty Tech è un programma di L'Oreal che si estende su scala mondiale e ha l'ambizione di inventare la bellezza del futuro, impegnandoci al contempo a diventare l'azienda del futuro. Con questa mission, Beauty that Moves the World, una bellezza che muove il mondo. Questa ambizione ha tre pilastri. Il primo è l'intento di creare una bellezza sempre più inclusiva, capace di rispondere alle esigenze e ai desideri di tutte le persone, nella loro infinita diversità. La seconda colonna portante di questa mission sono la trasparenza e la responsabilità, che devono essere proprie di tutte le aziende, i prodotti e i servizi del nostro portfolio, che è unico. Infine, vogliamo creare una società agile e ricca di talenti, in grado di creare il futuro della bellezza. Per fare questo, investiremo in scienze e tecnologie innovative, che ci consentiranno di offrire ai nostri clienti un'esperienza all'avanguardia e personalizzata. Guselli Shmatova, Key Strategy Officer Bold Corporate Venture Fund di L'Oreal, ha illustrato l'importanza della nuova strategia di investimento. Bold è un venture capital fund particolarmente strategico per L'Oreal. Grazie ad esso investiamo, tramite quote di minoranza, in aziende ad alto potenziale, che operano nella catena del valore della bellezza. Può trattarsi di investimenti rivolti ai brand, alla bellezza aumentata, alle biotecnologie e alla sostenibilità. Il primo criterio che consideriamo nella selezione degli investimenti è la possibilità di creare una sinergia con la nostra azienda. Dunque poniamo particolare attenzione all'allineamento strategico e sinergico, mirato a raggiungere la nostra mission. Vogliamo puntare su imprenditori coraggiosi, che stiano lavorando per cercare di rendere il mondo un luogo un po' migliore.